Verteglia capitale di Irpinia, tra concerti e musica, mucche al pascolo e giovani in tenda, si discute del bene più prezioso, l'acqua, nelle manifestazioni promosse sull'altopiano dal gallo Irpinia-Sagno. Lo si fa alla vigilia di un'assemblea delicata per il futuro dell'alto calore, che annega nei debiti e senza ossigeno può fallire o far fallire i comuni, chiamati, nonostante le difficoltà, ad aumenti di capitale, che insieme agli investimenti della regione e a possibili esuberi di personale potrebbero rilanciare la società. Anche di questo, moderati da Norberto Vitale, hanno discusso il presidente di Missionario De Stefano, il presidente della provincia Gambacorta e il vice governatore campano Bonavitacola. Dopo aver ringraziato il presidente Buonopane per l'opportunità, l'assessore regionale all'ambiente ha sferzato i sindaci su acqua e rifiuti. Sull'acqua dice, valutino bene cosa voteranno sui rifiuti. Martedì è prevista la nomina del direttore generale del lato. Se slitta, scendono dalla slitta. Ha scherzato, ma non tanto, facendo prefigurare un possibile commissariamento in caso di non decisione. Così Bonavitacola ai nostri microfoni sul voto in programma lunedì nell'assemblea dei sindaci dell'alto calore. Il messaggio ai sindaci è che abbiano responsabilità, valutino bene le conseguenze delle decisioni. Il risanamento e il rilancio sulla base del piano industriale predisposto dall'attuale management dell'alto calore è una scelta. Se qualcuno ha scelte migliori le proponga. Se l'alternativa devono essere procedure concursuali o fallimentari, questa non è una buona soluzione. Determinerebbe degli effetti negativi sul piano occupazionale e del principio dell'acqua pubblica, perché la legge Madia non consentirebbe di mantenere questo servizio nella mano pubblica. Ancora più netta la posizione sul voto in programma martedì per l'elezione del nuovo direttore tecnico dell'ato rifiuti. Se slittano, scendono dalla slitta, perché la pigliamo noi. Abbiamo già deciso di azionare i poteri sostitutivi. Infine sulla realizzazione di un impianto di compostaggio a Chianche nell'area del greco di tufo DOC-G. Se in concreto sul piano scientifico qualcuno individua una possibile interferenza negativa della realizzazione di un impianto che è ad impatto ambientale pari a zero, con l'utilizzo di queste risorse e la valorizzazione di queste risorse se ne discute. Ma a slogan non andiamo da nessuna parte.